E' stato inaugurato nel 2019 secondo standard moderni, con parcheggi e servizi che avrebbero tolto le bancarelle dalla strada per rendere più facile la fruizione da parte degli utenti. L'amministrazione torna a pensare al futuro del mercato di via Amendola, da mesi chiuso dopo che l'esperienza da parte degli operatori non si era rivelata positiva. La difficoltà a conservare la vecchia clientela o forse la differenza tra le vecchie spese di quando operavano in Vianizza e il canone di poco più di 250 euro per il box avevano portato alla chiusura della modernissima struttura. Ad oggi sono stati a più riprese segnalati atti di vandalismo in quel contenitore che attende di trovare un nuovo contenuto. La risposta arriva dall'amministrazione comunale che a breve pubblicherà un nuovo bando per l'assegnazione secondo una formula diversa. Quello di San Pasquale sarà un mercato per prodotti a chilometro zero ma soprattutto sarà assegnato a un unico grande operatore e non a singoli mercatali. In tal senso ci sono state già manifestazioni di interesse concrete da parte di alcune organizzazioni di categoria. A spiegarlo è stata l'assessore al commercio Carla Palone. Il futuro è sicuramente quello di rendere la struttura idonea per un'operazione a chilometro zero. Abbiamo avuto tantissime richieste quindi gli uffici stanno lavorando per mettere a bando, quindi dare in concessione questa struttura per ridarlo alla cittadinanza. Un quartiere abitato dove ci sono anche tanti uffici quindi la possibilità di poter acquistare anche non stop quindi H24 in qualche modo dalla mattina alla sera prodotti a chilometro zero della nostra terra.